ciao a tutti benvenuti all'appuntamento con ta degli scatti signori oggi faremo vedere una partita clamorosa una partita clamorosa giocata da due giocatori clamorosi signori stiamo parlando di victor il terribile koshnoi contro il dio dell'universo michael tal ultimamente girando per il web girando per youtube mi imbatto continuamente ripetitivamente ripetitivo ripetitivo avanti 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 più anastro anastro questa cosa di tal tracutante tal dinosaurico tal distrugge gli scacchi tal comprime lo spazio tempo tal è dio dio più dio quando non è più dio è ultra dio e distrugge tutti e qui e la genio sacrifici tutto quanto ma non su un canale solo vedi tal su rai 1 tal su rai 2 tal su rai 3 poi anche su canale 5 rette 4 italia 1 sempre tal o per carità lo sto mica dicendo che tale era scarso anzi tal era un genio però tal era anche una persona modesta tal era una persona che si fermava anche a giocare una partita di scacchi con gli operai di una fonderia ok quindi lui non era il personaggio che voleva essere un vincente lui giocava a scacchi per il piacere di giocare per creare cose assurde ok era un artista era un artista piace perché un artista o piace perché vince io devo capire questo perché perché se piace che un artista oggi non è l'epoca dell'arte ma è l'epoca del del vincente l'epoca di chi vince piace ok tal vinceva spesso ma oggi sarebbe piaciuto un uomo che aveva una mano con tre dita aveva una gamba più lunga dell'altra e in una aveva pure il piede tipo cap tipo piede caprino poi aveva era strabico e aveva ed era anche era malato aveva problemi di salute aveva i reni che non funzionavano fumava cinquantamila sigarette al giorno ok esteticamente oggi uno così non sarebbe piaciuto oggi vogliono vedere il magnus carsen questi bei volti queste belle macelle montagnose no vedere questo fisico bello che i pettorali no questa questo sedere prorompente che esce fuori dei pantaloni no il pacco signori ok vederlo con le con le tipe che vogliono 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 quello vincente quello anche in un certo tipo fisicamente predisposto geniale tu vogliono tutto tal non era così tal era geniale ma era malato era una persona che purtroppo non al giorno d'oggi tal non avrebbe partecipato al circuito mediatico ve lo posso assicurare bene anche perché ormai tal veramente lo vedo aperto ad al fruttivendolo vedo le pubblicità di tal vado dall'inedicola ci sono ancora i giornali c'è la pravida del 60 che dice che tale è diventato appena campione del mondo modo al tabaccaio adesso non fumo più però provare dal tabaccaio vedi le sigarette con la foto di tal che fuma ok e non c'è scritto il fumo uccide c'è scritto il fumo rende geniale con tal c'è scritto se fumi diventi un campione del mondo di scacchi tale dappertutto ci sono anche le acconciature alla tal dei barbieri dove dal barbiere voglio voglio farmi i cappelli alla tal ok così così la spazione oggi dove ti giro ti giro i vedi tal però tal coi tempi di oggi c'entra poco ora andremo a vedere questa partita del 1963 campionato dell'us mi raccomando like e descrizione contro il terribile la tal dice e victor io sono stufo di vedere sempre sti video che dicono che sono dio ma io non sono dio cosa devo fare secondo te e victor gli risponde non ti preoccupare ci penso io arrivo io è terribile e dopo questa partita nessuno dirà più che sei dio che sei il dio degli scacchi si dimenticheranno persino come si scrive tal bene giochiamo victor cosciano con i pezzi bianchi tal con i pezzi neri cosciano è 1 di 4 apertura di donna cavolo f6 da parte di di tal difesa indiana c4 c5 moderna benoni la specialità della casa dio gioca la sua creatura preferita ovvero la benoni moderna e vediamo cosciano dovrebbe essere praticamente annichilito cosciano gioca la variante principale spinge il pedoncello in d5 e 6 per contrastare il centro questa è tutta teoria della moderna benoni cavallo c3 sempre rivolto verso il centro controlla la casa 4 controlla il pedone di 5 sberlucco sberlucco si semplifica e poi si spinge ora il nero cercherà di giocare il vescovo in fianchetto perché perché da questa parte qui abbiamo una struttura su casa schiure nel vescovo non gioca bene in e7 ok il bianco montaggio di spazio al centro riuscirà a giocare anche il pedone e4 avrà un bel una bella formazione pedonale il centro e del bianco il nero cercherà di attaccare sull'ala di donna ok graffia anche al potente vescovo di fianchetto ma queste linee sono quasi sempre favoribili al bianco nel lungo periodo però nero gioca questo impianto per vincere ovviamente tal e tal vuole vincere anche col nero qui cosciano giocava l'f3 sviluppo g6 g3 sta interessante cosciano decide di mettere anche lui il vescovo in fianchetto una linea che sembra apparentemente più posizionale ma questa sarà una partita da devasto sarà una partita da devasto tal mette il vescovo in fianchetto anche cosciano o se tu sei dio e metti il vescovo in fianchetto io che so terribile metto anche io il vescovo in fianchetto ok bene e qui tal a rocca corto e vittor grigio hai paura hai paura che fai il timido hai paura del terribile ma non eri dio avevo visto il video ieri a rocca corto ma anche tu allora sei pavido caro corto non importa il sol terribile faccio quello che voglio tal sviluppo il cavallo laterale cavallo a sei quasi un modo di gesto di di sfregio sviluppo i cavalli laterali chi se ne frega h3 va coi piedi di piombo qui victor evitiamo sorprese un vescovo g4 cavallo g4 perché deve sapere che nella benoni moderna il nero cerca anche la manovra cavallo g4 cavallo e 5 ok per piazzare il forte cavallo ok nella casa e 5 la cosa e 5 e la casa fondamentale in questa in questa difesa perché se il bianco riesce a fare lui e 5 e sfondare il nero ha finito di vivere e qui tal ricollo calca ma lo sta pasticciando un po' qui tal cincischia cincischia porta avanti indietro i pezzi e qui e 4 cosci mi dice adesso arrivo quei puntaruoli arrivi quei puntaruoli e io il cavallo lo piazzo in d7 perché proprio per controllare la casa e 5 poi ci piazza anche il trono e pernigotti e se non basta ci piazza anche la donna va bene dice victor va bene intanto ci piazza anche il troncino pernigotti voglio spingere voglio spingere voglio entrare in casa del dio degli scacchi come sarà la casa di tal come i templi dell'antica grecia come tempi di zeus come è tal incredibile gioca mosse passive cavallo e 8 per difendere sempre il pedoncello qua tal veramente raggomitolato su se stesso irriconoscibile perché giochi così non fanno più i video su di te ma lui proprio quello che vuole basta io non sono il dio degli scacchi sono uno scacchista come tutti gli altri un po pazzo ok geniale però io non voglio essere categorizzato come uno vincente dinosaurico che pensa solo a vincere nella vita ci sono cose più importanti della vittoria scacchi vescovo g5 quindi corsini t'attacco la donna tal qui in precisione davia il suo fortissimo vescovo di fianchetto un po impazzito qui tal sta a cercare gioco a perdere devo perdere questa partita devo perdere di contratto perché sennò le vinco tutte qui corsini non gli cambia il vescovo e giocava migliore del motore vescovo e 3 incredibile che partita questo torbio a tua parte di tal vuole sfondare sulla di donna ovviamente e cosci dice tu non sfondi da nessuna parte molto terribile terribile ok spinghi in assai voglio spingere in b5 tavolo spingere in b5 no corsini toglie il suo vescovo di fianchetto e lo mette qui nello sgabuzzino basso qui nel pianerottolo vescovo nel pianerottolo per andare a controllare la casa b5 non stare attenti tal giocadonna e7 rinforza le case schiure manovra di cavallo di corsini questo cavallo probabilmente vuole andare in c4 ok vediamo e tal qui mette il cavallo in c7 perché vuole spingere il pedone b5 ci mette tre controllori o tre controllori e controllori su un sul binario qui sul binario b un treno che va sul binario b tra controllori mica mica uno sta lì a non pagare il biglietto no mica uno sta lì a non pagare il biglietto no e infatti corsini il biglietto lo paga sì ma sulla colonna f avanti f4 f4 di punta ruolo la partita si infiamma attacchi contrapposti tale partito con b5 e 5 sacrificio di pedone di cosci noi la migliore del motore signori vuole aprire il guscio io sor terribile apro gusci da per tutto victor corsini apriva le nocci di cocco nei chioschi di leningrado signori è terribile il chioscarolo ok che apre le nocci di cocco con le dita incredibile sberlucco perdono ma la prendo e qui non sberlucca neanche cosa giuro che la migliore del motore cavallo in e4 controlla la casa di sé perché vuole spingere il pedoncello di forcoide vuole dare il forcoide a tal tal per smettere veramente sta per smettere di essere dio si sta spegnendo la luce signori e si può torno indietro torno indietro a paura del forcoide il forcoide del diavolo ok dio che ha paura del diavolo bene sberlucco qui sberlucco la migliore corsini favoloso questa partita sberlucca e di sei di punta ruolo non ho più il forcone però c'è il punta ruolo del diavolo terribile il terribile punta ruolo del terribile terribile come dice il nostro amico alis cacchi che è un grande fan di cocco è anche un grande fan di tal questa partita per chi ti ferà bene qui cavallo butta in e6 la migliore del motore anche la parte d'italia sberlucca cosci noi due pedoni affiancati centrali che vanno però tal se ne frega lascia il pezzo in presa e dice attacco il cavallo l'attacco cavallo cosa mi fai adesso cosa mi fai adesso niente posto il cavallo propone un cambio cavolo 4 alla migliore del motore corcino è veramente partita spaziale sberlucco la migliore del motore sberlucco entra con la donna pedone passato pedone fortunato attacca la donna tal qui donna di 2 togliela dalla presa della corrente e qui donna di 7 tal dice io metto in comunicazione i toroni pernigotti la donna fa la guardia al vescovo fa la guardia alle case chiare fa la guardia cavallo fa la guardia tutto blocca il pedone passato però in precisione secondo il motore e qui incredibile gioca la migliore del motore rh2 la migliore del motore viene su come caffè mattino corcnoi tal spinge il punterolo si porta avanti con il lavoro la migliore per intanto la barra del bianco continua a salire un po' sale un po' scende si capisce attenzione coppia di vescovi per corcnoi che gioca il troncino pernigotti in c1 vuole andare a tempestare questa debolezza pedone debole è un pedone debole dio degli scacchi a fi a fi e tu però non ce l'hai più il pedone perché te lo sberlucco donna per a4 sberlucato un pedone a corcnoi attenzione la migliore del motore da parte di tal e corcnoi qui gioca ancora la migliore del motore non sta a sberluccare il pedone c5 gioca vescovo c4 la migliore che partita ciclopica signori tal torna indietro col vescovo perché dice da un occhio al pedone anche col troncino pernigotti e se vi cattura il cavallo catturo col vescovo no dopo imprecisione e corcnoi giocattoroncino pernigotti in f1 manovra misteriosa a vita al rock left rock left di tal torre b4 attaccare il vescovo con due pezzi so cosa fai corcnoi mi cambi mi cambi quel vescovo certo che te lo cambio però imprecisione tale cambia cambia che fai bene a cambiare lui c'ha creduto detto tale addio degli scacchi se mi consiglia qualcosa avrà ragione avrà ragione però sberucco sberucco niente di che il bianco mantiene comunque un buon vantaggio e qui mossa brillante attacca la torre cortina trattato tale la sposta donna g5 e qui cortina vuole andare a minacciare matto matto in due vuole andare a dare incredibile torroncino pernigotti ne due probabilmente infatti corcino lo para subito non gioca donna in f6 per dare marco sarebbe successo con donna f6 donna f6 brutta secondo il motore brutta mantiene leggero vantaggio ma non bellissima perché arrivava lo scacchetto e qui torre f2 forzosa torre per f2 donna per f2 qua ti salvi posso donna d4 donna d4 se donna f6 scacchi scacchi in edu no donna d4 su donna donna f6 c'è donna per b2 scacchi forse per picco del perpetuo probabilmente qui c'è il perpetuo signale non si può fare subito donne che sei allora allora che succede qua c'era che corcino gioca la migliore punto esclamativo punto esclamativo torre f2 f5 tal gioca la migliore del motore la migliore mossa possibile di difesa ma qui donna f6 la migliore del motore minaccia matto in una attenzione tal torna indietro corcino non me lo dai ma io sono dio degli scacchi allora sberlucco la migliore del motore finalmente sberlucco con pedone anch'io proprio nel cambio dell'elettorità sberlucco sberlucco ci sono i vescovi di colore contrario ma vince sempre chi ha i pezzi più attivi con i vescovi color contrario soprattutto se ci sono ancora le donne sulla scacchiera qui chi sta attaccando il bianco e quindi il bianco qua sta nettamente meglio perché chiaramente i pezzi del nero sono scoordinati che il re del bianco è molto più al sicuro e qui corcino prepara a giocarsi anche il torno e pernigotti prepara si appropingua torna indietro tal blocca tutti ci blocco tutto sulle case chiare corcino in manovrina questa mossa di fila migliore del motore di fino dove vuole andare non si sa qui tal propone una minaccia vengo a darti il perpetuo vengo a darti il perpetuo niente perpetuo ritorno con il torno e pernigotti io ritorno con la donna ripetiamo ripetiamo qui corcino sembra ripetere anche tale contento dai che patto dai che patto dai che patto qui è incredibile sacrifici torno e pernigotti pseudo sacrifici perché se prendi torno e pernigotti e qui c'è il matto attenzione a gran mossoide di corcino è che vuol portare torno e pernigotti da queste parti non sempre stare attenti al perpetuo sempre stare attenti al perpetuo tal toglia la donna sul perpetuo non c'è più però corcini gioca la migliore del motore g4 di punta ruolo apriamo il guscio apriamo il guscio tal parte con l'altro pedone dice ma creiamo un diversivo dall'altra parte io sono due degli scacchi e qui corcino sale su come caffè al mattino reggi 3 qui tal se ne frega continua a manovrare con i tuoi pezzi come se nulla fosse tanto hai solo sei solo il padrone delle case schiure va bene allora continua a essere padrone delle cose schiure qui in precisione però vuole entrare anche corretto corcino entra in casa di tal con il re cambia le donne qui vuoi cambiare le donne tal e cambiale reggi 5 ti entro in casa vengo a darti matto con il re sberlucca prima il pedoncello sberlucco la migliore tal non cambia le donne vuole che sia corcino e cambiarle ti ha mai detto che io cambio le donne ecco il corcino il giocatore c4 mosso mostruosa sacrifici torne pernigotti di nuovo perché perché c'è sempre al matto non si può mai prendere questo torroncino pernigotti allora tal spinge vuol farsi pedoni passati inchioda il vescovo va bene e tal va avanti coi pedoni una furia pedoni passati pedoni fortunati ecco l'idea di torri b8 se cattura spingere andare a donna o andare a donna tal come fa a fermare i pedoni corcino mossa geniale signori mossa geniale di corcino torre per di 7 torre per 7 sacrifizio di qualità sacrifizio di qualità anzi sacrifizio pulito di torne pernigotti quale qualità torne pernigotti sacrificato sacrificato immolato alla patria tasso lo sberlucca e adesso cosa fai cosa fai la qualità di meno cosa fai che erano sacrifici di qualità non di pulito perché c'era c'era il vescovo ha catturato il vescovo spinge di punta ruolo incredibile due punta ruoli passati da spostata ma che era minacciata altro errore qui sono probabilmente saranno in zai con poco tempo donna signorine 5 vuol spingere i pedoni sberlucca tal cosci non se ne frega fa promuovere tal cosci non fa promuovere ma promuove a donna promuove a donna fammi vedere che sei il dio degli scacchi dai voglio un altro video su di te quittà vuole quittà non promuove non promuove perché se promuove qua promuove con scacco cosci non e gli da matto attenzione ora si deve avvicinare con il re e cosci non altra spinta di punta ruolo altro sacrificio di pedone signora però qua bisogna stare molto attenti bisogna stare molto attenti infatti tal dice da uno scacco sacrifico la donna roba ma che partita è questo che succede se sberlucca chiaramente parte il trono e pernigotti però se parte il trono e pernigotti fa donna e allora che che deve fare qui che deve fare scacco è matto ok che si sberluccava la torre sberluccava la torre qui è finita è finita è finita donna per sette scacco e va a vincere addirittura il nero sposta promozione donna e nero vince con due donne credibile non si può prendere il trono e pernigotti che è matto ok ben credibile questa questa linea no tal non ha giocato così tal ha dato lo scacco ha sacrificato la donna cosci non la sberlucca scacco di torre pernigotti di tal cosci non scappa con il re scacco scappa con il re scacco perché tal sta continuando a dare tutti questi scatti ma lo so sberlucca scacco sberlucca promozione a torrone pernigotti e qui c'è il matto in uno matto in una partita ciclopica partita ciclopica dove koshnoi ha demolito tal tal era contento alla fine della partita allora finalmente non uscirà un video dove io sono il dio degli scacchi finalmente voglio essere una persona normale nella vita dato victor è terribile io sono terribile batto anche il dio degli scacchi signora bene andiamo a vedere la revisione disposto un attimo ora dice la revisione la revisione dice 89.3 per cento 89.8 per cento per koshnoi e 83.5 per tal una mossa geniale sei grandi mossa per koshnoi e mentre il genio di tal non ha fatto neanche una mossa geniale dio degli scacchi non trova neanche una grande mossa ha fatto solo un errore tal quello di incontrare koshnoi signore koshnoi qui veramente mostruoso zero errori gravi zero errori zero imprecisioni soltanto tre piccole imprecisioni però mossa geniale e sei grandi mosse ok bene signori ok con questo è tutto mi raccomando like e descrizione ci vediamo venerdì col personaggio misterioso un personaggio veramente clamoroso un personaggio assurdo che nessuno conosce bene con questo è tutto ciao e arrivederci grazie